Ben trovati, buonasera, decimo appuntamento di L'Armonia della Vita in vista del decimo incontro mondiale delle famiglie. Ben trovati a tutti quanti voi. Questa sera, come avete già potuto intuire dall'inquadratura iniziale, offertaci dalla regia di Roberto Cocomazzi e Roberto Viscio, abbiamo uno studio pieno di presenza fisica perché nelle scorse settimane il nostro leddual è stato un po' l'agorà attraverso la quale siamo entrati in comunione con tante famiglie, oggi invece abbiamo davvero la fortuna e il privilegio di avere tanti ospiti qui in studio, ma io non perderei tempo perché voglio subito salutare il principale ospite che è Don Vincenzo D'Arenzo. Ben trovato, buonasera. Grazie Leonardo e un saluto a tutti. E un grazie anche ai nostri ospiti. Infatti voglio fare subito un rapidissimo giro di presentazione prima di introdurre l'argomento della puntata di quest'oggi, quindi alla mia destra abbiamo Matteo Lombardi e Mattia Principe, buonasera, e poi a sinistra Maria Piemontese, Lucia Gentile e Giuseppe Castriotta. Dunque parleremo di argomenti, un argomento nello specifico molto importante, tratto dall'ottavo capitolo di Amoris Laetitia che in qualche maniera affronta il tema della fragilità all'interno del matrimonio. Ma prima di tutto ascoltiamo e vediamo Papa Francesco con il video dedicato a questo argomento. Oggi la famiglia è messa duramente alla prova. Tutti siamo fragili, ma separazioni, divorzi, convivenze sono ormai una realtà che riguarda tante famiglie del mondo. In un modo la Chiesa deve rinunciare a proporre l'ideale pieno del matrimonio. Essa ha il compito di andare incontro a coloro che desiderano rimanere vicini a Dio per aiutarli a trasformare i fallimenti e le sofferenze in opportunità, il cammino verso la pienezza del Vangelo. Le famiglie hanno bisogno di essere approcciate grazie a due visite, per l'échange del figlio, di essere compresse e di fare dei consegni di altri spiriti e umani che le donneranno con tutti. Una pastorale familiare attenta sa accogliere, ascoltare, accompagnare e discernere, non con semplici e banali ricette. In questo non ci sono le ricette, ma con uno sguardo che sa davvero comprendere le situazioni. Aucune famiglia ne deve essere escluso di la comunità, quels quei loro problemi. Le mareggio è un giro di bonheur e non di valore. Questa comunità è sensata constituere un support che montrano a queste famiglie l'importanza della protezione, dell'engasciamento dei bambini per un avvenimento migliore. Le bambini d'or comprensione che a un plan merveilleux per loro. Le bambini d'or comprensione che le donna il coraggio di passare e di passare per loro parenti e di assurare che anche qui, mio padre e mia mamma, non vengono e non continueremo. Siamo un sacco di giro. Oggi, più che una pastorale dei fallimenti, possiamo fare una pastorale di accompagnamento per consolidare i matrimoni, prevenire le fratture. Ci sono tanti piccoli passi possibili che le persone possono fare in tal senso. E piccoli passi sono sempre traduiti. In ogni situazione è importante usare il balsamo della misericordia per lenire le ferite e far sentire le persone accolte. Nel rispetto della verità bisogna insegnare a perdonare, a comprendere, a sperare. Accompagnare la fragilità, dunque il tema di questa sera, come dicevamo, tratto dall'ottavo capitolo di Amore e Seletizia. Allora io andrei subito da Don Vincenzo, perché vorrei partire allora, Don Vincenzo, da questi tre verbi che introducono questo capitolo. Lascio a te allora l'onere di presentarli. Beh, in pochi secondi è sempre complicato, però ci proviamo. Sì, il Papa come titolo a questo ottavo capitolo ci mette questi tre verbi, appunto accompagnare, discernere, integrare. Cosa possono significare? Intanto accompagnare è un verbo che è ritornato spesso nelle nostre puntate precedenti, l'accompagnamento dei figli, l'accompagnamento da parte delle comunità nei confronti delle famiglie. Ecco, in questo caso accompagnare le fragilità, quelle fragilità che non sono solo nelle famiglie di conviventi, di divorziati, risposati, o diciamo fragilità collegate direttamente alla situazione del matrimonio. Veramente le fragilità sono di vario genere, di vario tipo. E potremmo dire che siamo tutti fragili e non per un modo di piangerci addosso oppure di venire incontro a chi vive queste situazioni. Le fragilità ci appartengono. Allora di fronte alla fragilità noi possiamo o usare il metodo di chi allontana oppure di chi facendosene carico accompagna quel cammino, accompagna quella fragilità. E allora ci viene in aiuto il secondo verbo di Papa Francesco, discernere. Perché noi siamo più abituati come pastorale, un po' anche come mentalità, di noi preti e anche dei laici. Quella di fare delle categorie, di fare delle scatole dove inserire situazioni precise. Discernere nel linguaggio di Papa Francesco e quindi nell'accoglienza di queste fragilità, significa intanto individuare fragilità da fragilità, perché ogni famiglia che si trova a vivere una sua fragilità è diversa dall'altra. E quindi discernere fragilità significa venire incontro alle persone, non condannare, giudicare situazioni che non corrispondono ad una morale oggettiva. Quella morale oggettiva abbiamo sentito anche nelle parole del Papa che resta assolutamente, come dire, fondamentale. Il matrimonio cristiano è un matrimonio uno, è un matrimonio indissolubile, è un matrimonio fecondo, aperto alla vita. Ma in tutto questo ognuno vive questo progetto di Dio per il matrimonio, vive con altre persone, quindi le fragilità sono nostre nel modo di vivere questo progetto pur partendo da qualche errore mio o dell'altro. Quindi discernere significa non fare categorie di persone, ma accompagnare ogni persona a conoscere la sua situazione e a partire da quella situazione, ecco, provare a integrare, è l'altro grande verbo di Papa Francesco, dove integrare significa che nessuno nella Chiesa si deve sentire escluso. Nella Chiesa deve usare i metodi della esclusione. Integrare significa che in ogni situazione, anche la più grave, potremmo dire, di fragilità, c'è sempre un germe di bene dal quale partire e per far sentire quella persona amata da Dio e amata da una Chiesa che è madre, madre vera. Qui ci sono degli ospiti, poi ci racconteranno un po' le loro esperienze. Mi piace anche a me raccontare una esperienza che veramente mi ha fatto molto male quando l'ho sentito, ma male facendomi soffrire con la persona. Quando abbiamo iniziato nella nostra diocesi dei percorsi con le famiglie che vivono queste fragilità, a un certo punto nei primi incontri, forse lo ricorderete bene, una di queste famiglie ha detto finalmente la Chiesa si è accorta che ci siamo pure noi e ha continuato io nella mia parrocchia mi sono sempre sentita come un lebroso. E questo è terribile. Questo è terribile perché la Chiesa non può escludere nessuno. E allora ecco i tre verbi che Papa Francesco oggi ci affida si coniugano l'uno insieme con l'altro, l'uno come conseguenza dell'altro, l'uno come premessa dell'altro. E allora essere vicini, prendersi cura delle fragilità, dire a ciascuno che Dio ci ama e non perché siamo bravi, e neanche perché non siamo bravi. Dio ci ama perché Dio è amore e il suo non può che essere lo stile dell'amore che viene incontro sempre. Ecco, portare avanti questo concetto e questo progetto è fondamentale da questo punto di vista. Don Vincenzo vorrei permettimi di sottolineare anche che alla base di tutto c'è poi un atteggiamento che è quello davvero tanto caro a Papa Francesco che è la misericordia. Ecco, quindi chi legge l'ottavo capitolo, ma in generale chi legge Amoris Letizia si accorgerà che una delle parole chiave che accompagnano un po' un filo conduttore di tutta questa esortazione apostolica è proprio la misericordia a cui Papa Francesco ha voluto dedicare, come tutti ben sappiamo, un anno santo straordinario. Allora noi ora ci fermiamo per la pubblicità e poi ritorneremo qui in diretta per ascoltare come si attua questa misericordia nella pastorale che il matrimonio deve in qualche maniera prendere in considerazione. Restate con noi. Eccoci ancora in diretta dunque a accompagnare la fragilità, il tema di questa puntata. Abbiamo cominciato per certi versi a grattare un po' quella superficie che ci consente un po' di capire quali sono le tematiche trattate da Papa Francesco all'interno di questo meraviglioso ottavo capitolo di Amoris e Letizia. Allora io ritornerei da Don Vincenzo per raccontare un po' anche l'esperienza della diocesi di Manfredonia a Vieste San Giovanni Rotondo. Qui hai alcuni collaboratori, abbiamo anche delle famiglie che ascolteremo poi tra poco. Insomma un'esperienza bella, interessante, viva direi. Sì, dall'inizio ci siamo interrogati un po' su questo. Anche perché le situazioni che viviamo nella realtà di ogni giorno sono tante. Il Papa lo sottolinea anche in questo ottavo capitolo. Sono molte le famiglie che vivono questa fragilità in un amore che di per sé è chiamato ad essere per sempre, però varie situazioni non ce lo permettono. Ecco io chiederei a Matteo e Mattia che sono con me responsabili dell'ufficio diocesano, di pastorale familiare, con i quali ci siamo e ci continuiamo a confrontare un po' sul cammino che vogliamo suggerire in diocesi, di illustrare un po' questa esperienza delle coppie cosiddette ferite. Partiamo da Matteo allora, visto che ha già il microfono. Sì, grazie. È un cammino che abbiamo avviato nel 2015, dopo un confronto e un'analisi di quali erano le emergenze nella nostra diocesi. abbiamo cercato di offrire una proposta, più che una risposta, a chi ha il cuore ferito, cioè a chi ha visto naufragare il proprio progetto d'amore, a chi stava vivendo una situazione di emarginazione, diciamo volontaria, perché non è ufficiale, non c'è una scomunica, però le persone vivevano la loro realtà come una situazione di condanna e quindi si allontanavano. Un po' come diceva anche Don Vincenzo prima. Si allontanavano dalla realtà ecclesiale, invece qualsiasi persona, in qualsiasi situazione, anche la più difficile, anche la più brutta, continua a far parte della Chiesa, continua a essere figlio di Dio e continua a essere fratello in una comunità di fratelli, quindi continua a far parte della famiglia cristiana. Il nostro tentativo è stato quello di dare la possibilità di rendersi conto che si continuava a essere parte della Chiesa anche in queste situazioni dove loro vivevano l'emarginazione. E quindi abbiamo cercato di offrire un percorso triennale sulla base di un'esperienza della Diocesi di Milano in cui vivere di nuovo il rapporto di fede, in cui far riscoprire la gioia del battesimo, il fatto di essere figli di Dio, anche nella fragilità, anzi, proprio perché fragili, ancora più amati da Dio. E quindi abbiamo offerto degli incontri mensili per tutta la Diocesi. Siamo partiti con Manfredonia e poi abbiamo aperto gli stessi incontri anche qui a San Giovannino Tondo e a Vieste. In pratica potevano venire sia le persone separate, sia le persone divorziate, sia chi comunque vivevano in situazioni di sofferenza, penso ai vedove. Qual è stato l'atteggiamento che avete riscontrato? Passare dall'essere tacciati come lebrosi all'essere? All'essere parte di una famiglia. All'essere parte di una famiglia. I nostri incontri erano costituiti da un momento di preghiera insieme, quindi farsi toccare dalla parola di Gesù, un momento di riflessione, di condivisione, di risonanza, così dicevamo. E poi un momento più laicale, in cui affrontavamo i temi vivi, i nervi ancora scoperti delle esperienze trascorse. Diciamo che è andata molto bene. Ci siamo dovuti fermare in questi due anni per la pandemia, perché la situazione della salute pubblica lo obbligava. Ma riprenderemo al più presto, perché la richiesta c'è e ci viene sollecitata sempre più spesso. Noi abbiamo anche un gruppo di WhatsApp che continua a essere presente e sul quale continuano a chiedere i nostri amici quando è che ci rivediamo, quando è che riprendiamo. E questa è una cosa molto bella. Anche perché la pandemia ha un po' acuito poi alcune situazioni tra virgolette particolari. Ecco, andrei allora da Mattia, così magari... Buonasera a tutti, grazie. Prego. Sì, infatti, in questi due anni di pandemia ci siamo accorti che le fragilità per quanto riguarda le famiglie sono aumentate, sicuramente. Quindi speriamo di riprendere. Una cosa che volevo aggiungere è che nei momenti di condivisione, dopo aver letto il brano del Vangelo e quindi di confronto, nei primi incontri noi abbiamo lasciato molta libertà nell'esprimersi. Per cui alcune persone hanno... ci è voluto un po' di tempo perché tirassero fuori quella sofferenza che avevano dentro. E poi piano piano hanno incominciato a fidarsi. A fidarsi e quindi a liberarsi anche un po' di quella sofferenza. E lì ci siamo accorti che c'era questo discorso di poi accompagnare. Quindi dovevamo accompagnare ognuno di loro. Perché ognuno di loro aveva una situazione particolare. Viveva quella situazione in maniera diversa. Anche se vogliamo la stessa separazione. Non tutti la vivevano nello stesso modo. Domincenzo, allora vogliamo andare dall'altra parte dello studio. Ecco magari ci presenti un po' i nostri amici. Noi li abbiamo presentati ovviamente con il nome e il cognome. Però ci sono anche delle situazioni belle. Che prima telecamera è spenta e con poi ci dicevamo. Prego a te. Sì, intanto voglio anzitutto dire grazie. Perché raccontarsi sia in un gruppo, ancora di più forse... In televisione. In televisione, davanti ad uno schermo. È comunque sempre un momento particolare. E quindi dico grazie a loro perché mettendosi in gioco loro, in fondo speriamo che possano arrivare anche ad altri e sentire proprio questo bisogno di confrontarsi. Le famiglie devono essere tenute in rete sempre. E l'esperienza di tante famiglie ferite è bella, nonostante la sofferenza naturalmente, è bella proprio perché racconta ad altri come si è passate attraverso questa realtà. Ecco vorrei intanto partire chiedendo a Lucia e Giuseppe di raccontarci un po' la loro esperienza, sia come esperienza di vita familiare, sia anche come esperienza di frequenza a questi nostri incontri in questi tre, quattro anni. Forse voi tre o quattro anni avete. Quattro. Quattro anni. Sì, buonasera. Sì, Don Vincenzo, dal punto di vista dell'esperienza personale, la mia testimonianza è quella di una donna che circa 17 anni fa ha conosciuto suo marito che veniva da una situazione di separazione. E l'esperienza, ecco, di una donna che ha avuto questa fragilità, perché parliamo di fragilità, quella di essersi in un primo momento invaghita e poi di essersi innamorata, per poi crescere nell'amore. In un primo momento pensavo fosse solo una prima fase, ecco l'innamoramento. Nel momento in cui ho concretizzato che era un rapporto molto più solido, ecco che la difficoltà è stata quella di dover comunicare alla mia famiglia l'esistenza di questo rapporto. Vengo da una famiglia che mi ha educata sin da piccola ai più sani valori cristiani, il battesimo, la cresima. Io stessa ho sempre desiderato, sognato un matrimonio con la benedizione di Dio. Questo purtroppo non è stato possibile. E soprattutto, ecco, la sensazione che ho provato e che mi sento di tirare fuori è stata la sensazione della vergogna verso anche un padre che in quel periodo, nello stesso periodo in cui io conoscevo e vivevo il rapporto con mio marito, diventava diacono permanente. Quindi ho vissuto con grande senso di colpa il mio rapporto con quello che poi è diventato mio marito perché grazie a Dio la mia famiglia può non aver condiviso ma ha accettato le mie scelte perché ha visto la serietà. Noi abbiamo subito deciso di sposarci noi ci siamo sposati 15 anni fa abbiamo un figlio di 13 anni e quindi, ecco, la mia fragilità è stata questa quella di essermi innamorata di un uomo che era separato e mi sono sentita per tanto tempo emarginata ma da me stessa. La mia comunità parrocchiale non mi ha mai emarginato ma soprattutto quando mi recavo in chiesa io ero in comunione con Dio e Dio è misericordioso io sapevo che seppure non poteva accostarmi all'eucarestia Lui era con me. Certo ho vissuto questo come un dramma loro lo sanno perché gli incontri che ho fatto con Dovincenzo, con Matteo e con Mattia mi hanno aiutata a tirare fuori questo dramma. Il mio dramma è stato analizzato ci sono stati momenti in cui ci siamo confrontati anche scontrati ma sono stata aiutata a capire che con umiltà con discrezione bisogna accettare anche quella condizione che io stessa ho deciso di di intraprendere è stato fondamentale per me l'incontro con Don Vincenzo e con tutta diciamo la tutto il gruppo perché mi sono sentita di nuovo accettata da me stessa e questo è tanto può sembrare ecco si parlava di emarginazione ma ripeto non mi sono mai sentita emarginata io dico Gesù è stato pastore si è fatto pastore di 100 pecore non di 99 le ha volute tutte e io mi sono sempre sentita accanto a Lui mi sono sempre sentita accolta e amata da Lui anche nella mia condizione di donna sposata con un uomo divorziato grazie per la tua testimonianza perché davvero ci riporta al cuore di quello che Papa Francesco ecco oggi in qualche maniera ci dice attraverso le sue parole attraverso anche la vostra esperienza allora prima di andare da Giuseppe Don Vincenzo noi dobbiamo purtroppo fermarci per la pubblicità e riprenderemo questo racconto che davvero è il segno vivo della misericordia nell'ambito della pastorale familiare restate con noi eccoci allora per l'ultima parte di L'armonia della vita la puntata odierna dedicata alle fragilità accompagnare la fragilità e il tema della puntata ottavo capitolo di Amoris Letizia abbiamo ascoltato la prima testimonianza potremmo definirla così di Lucia ora andiamo da Giuseppe che abbiamo interrotto a causa ecco della pubblicità prego a te la parola buonasera a tutti e niente questa sera ci troviamo qua appunto per dire la nostra esperienza come poc'anzi ha detto mia moglie che inizialmente noi ci siamo sentiti sempre un po' emarginati ma più che emarginati io specialmente mi sentivo in colpa nei confronti di mia moglie che non poteva più prendere l'eucaristia e tante altre cose però la nostra fortuna è stata quella che non ci siamo mai allontanati dalla chiesa e dai nostri valori che abbiamo sempre percorso fino a che poi mio suocero ci ha resi noti di questo inizio del percorso con Don Vincenzo e grazie a loro Don Vincenzo Mattio e Mattia ci siamo di nuovo sentiti accolti e questa è stata un'esperienza molto bella che noi l'abbiamo anche trasmessa anche ad altre persone che abbiamo anche invitato per questo infatti mi dovete perdonare mi sento anche emozionato assolutamente perché abbiamo sempre io l'ho sempre vissuta come un dramma forte perché ogni qualvolta che noi andavamo in chiesa mia moglie iniziava a piangere vedere la propria moglie che piange non è bello allora grazie a questa apertura adesso della chiesa questa cosa ci ha riempiti di giuia e poi grazie anche sempre a Don Vincenzo che ci ha dopo alla fine del nostro percorso dopo i quattro anni ci ha anche detto di parlare anche con il nostro parroco e alla fine grazie al nostro parroco Don Salvatore ha valutato la nostra storia ha visto e finalmente siamo arrivati all'etofine che ci ha dato il permesso di prendere di nuovo l'eucaristia per questo io ringrazio tutti Don Vincenzo non so se vuoi aggiungere tu qualcosa nel frattempo io riprendo il microfono sì è un po' il percorso perché anche a chi ci ascolta io vorrei dire che non c'è mai una pretesa di fare la comunione ma questo non solo in questa situazione in tutte le situazioni però neanche nessuno si deve mai dice Papa Francesco sentire escluso per sempre fare la comunione la confessione ricevere i sacramenti è un po' il dramma di tanti perché a volte non si capisce bene la situazione nella quale si vive a volte si aggiunge sofferenza a sofferenza come se alle sofferenze umane si aggiungesse la sofferenza di una chiesa che un po' ci mette da parte ci mette ai margini per cui in un cammino insieme della coppia con una guida spirituale si può anche giungere a dire di avvicinarsi ai sacramenti perché Papa Francesco sottolinea che intanto la stessa comunione è un po' un modo per rimettere i peccati non dimentichiamo io lo dico anche ai miei bambini in queste domeniche di prima comunione io dico che quando c'è la consagrazione sul vino si dice offerto per voi in remissione dei peccati cioè il Signore ha istituito l'Eucaristia come prolungamento del mistero della sua morte della sua risurrezione del suo amore per noi e nell'Eucaristia ci rimette anche i peccati questo era un principio sempre presente nella Chiesa forse negli ultimi secoli un po' di meno quindi è importante che ogni coppia si senta come dire di poter intraprendere comunque un cammino che Dio non ha mai smesso di avere nei nostri confronti forse un po' noi Chiesa uomini e donne di Chiesa qualche volta lo facciamo vivere con sofferenza a chi vive queste realtà abbiamo un'altra testimonianza sì vorrei chiedere a Mariella e lascio subito la parola perché purtroppo il tempo è sempre tiranno ecco di raccontarci la sua esperienza grazie Don Vincenzo sono Mariella io mi sono separata diversi anni fa adesso sono divorziata i miei stati d'animo uno stato d'animo è comune a Lucia la vergogna quello che ricordo di più ed era un po' più pesante era l'angoscia tant'è che proprio nella prima assemblea a cui ho partecipato era quello il sentimento che mi pervadeva però siete stati tutti bravi nell'arco nel corso degli anni è durato alcuni anni l'accoglienza la cura il sentirsi voluti bene e questo percorso di vero e proprio discernimento abbiamo capito almeno io ho capito me stessa i miei sentimenti le mie sensazioni le mie reazioni perché ero chiusa al mondo esterno questa è stata un'opportunità che mi ha fatto capire che bisogna ricominciare ma il mio ricominciare è stato un cominciare perché non ero molto vicino alla chiesa prima di separarmi quindi è stata un'occasione per aprirmi a questo mondo e diciamo che mi è stata tanto d'aiuto la vergogna io ho avuto o la fortuna o la grazia di avere un figlio che un seminarista che fra un paio di mesi farà la missione agli ordini perché la vergogna mi ritenevo un passo indietro come se la mia situazione eppure la mia mente mi diceva che non era così però era il mio sentimento il mio sentimento mi faceva tenere un passo indietro come se la mia situazione potesse in qualche modo compromettere non lo so mio figlio i miei figli la loro vita le loro relazioni con il mondo esterno il percorso che ho fatto con voi mi è servito anche per colmare i miei vuoti per superare questi sentimenti che comunque non erano reali derivavano erano dei condizionamenti che derivavano da una mia situazione il pregio della vostra attività del vostro operato nei miei confronti è stato anche questo darmi la spinta un'energia per fare un qualcosa noi siamo stati abbiamo ricevuto tanto ci avete amati e curati allora la spinta ad aprirsi agli altri a curare ad avere lo stesso atteggiamento anche nei confronti del prossimo e diciamo che forse anche per questo che ho iniziato un'attività di volontariato la carita stamattinata vi ringrazio tanto tutti grazie io credo che Don Vincenzo lei ha utilizzato un verbo cura e mi piace molto quando lo andiamo a ecco in qualche maniera affiancare a quell'espressione ospedale da campo che Papa Francesco ha utilizzato nell'Evangelii Gaudium per la prima volta e che in Amoris Laetitia rientra proprio in questo capitolo ecco ti chiederei qui di fare una breve considerazione voi se volete aggiungere qualcosa vi lascio il microfono prego Don Vincenzo sì l'ospedale da campo è un'immagine molto bella l'ospedale da campo è lì per accogliere curare e integrare per riproporre ad una vita di maggiore pienezza chi è stato curato ecco io ringrazio se mi permetti un po' la loro esperienza avete parlato di noi ma anche noi parliamo molto di voi di voi che siete qui ma di tutto il gruppo che in questi anni con il quale noi abbiamo anche camminato voi avete camminato con noi ma noi abbiamo camminato con voi e non è anche qui non sono parole di lusinghe così strane noi siamo cresciuti molto con voi perché non era scondato neanche per noi ve lo diciamo con molta franchezza la chiesa come dire nella quale siamo cresciuti cresciamo nella quale ci sentiamo figli amati ma della quale sappiamo anche a volte e dobbiamo riconoscere anche qualche piccola miseria che purtroppo c'è a causa della nostra umanità noi eravamo più abituati a dire divorziati famiglie irregolari conviventi irregolari e quindi queste erano situazioni di giudizio che riguardavano le persone mentre con voi abbiamo capito che c'è una ricchezza e una bellezza che si porta sempre avanti che le fragilità dicevo prima ce le abbiamo tutte voi a volte vi siete trovate anche a subire alcune di queste fragilità e viverle diciamo con forza con coraggio con serenità penso che questo sia stato importante mariella avere un figlio seminarista che nell'esperienza di famiglia ha trovato i punti di riferimento anche se diciamo a te poteva sembrare che non era così la vergogna di cui tu hai parlato no invece ti deve portare a dire che nella tua famiglia che tu anche l'esperienza con il tuo ex marito nella tua famiglia lui ha certamente individuato dei punti dei capisaldi che gli sono rimasti e che oggi gli fanno dire di sì ad un signore che lo chiama e a dare la sua vita Lucia Giuseppe io conosco il figlioletto vostro che è proprio bello e quindi quello che dicevate un po' la vergogna no dobbiamo capire che i principi della vita cristiana ne vanno calati nella vita e l'esperienza di amore che avete vissuto tra di voi è nel volta e negli occhi di Matteo che ha saputo vedere e trovare anche se voi gliel'avete detto in qualche modo ma lui ha trovato l'esperienza di una famiglia piena di amore che lo porta adesso a crescere e a camminare sempre di più Don Vincenzo a me purtroppo tocca l'ingrato compito ecco di dare il triplice fischio finale a questa bella puntata che insieme abbiamo vissuto io davvero ringrazio ciascuno di voi per essere venuto ciascuno dalle proprie città ecco qui a San Giovanni Rotondo nei nostri studi per questa esperienza molto bella dell'armonia della vita che stiamo facendo insieme insieme a tante famiglie anche provenienti da diverse parti d'Italia allora grazie grazie a tutti quanti voi quando volete noi siamo qui le vostre testimonianze sono preziose come prezioso è ciascuno di voi ovviamente e grazie a Don Vincenzo come sempre per essere davvero la nostra guida in questo cammino verso il decimo incontro mondiale delle famiglie se mi dai ancora cinque secondi vai un invito a tutte le famiglie sentitevi amate forse non sempre ci riusciamo ad esprimere però il Signore vi ama la Chiesa vi ama avvicinatevi parliamone non abbiate timore non abbiate vergogna niente il Signore vi aspetta sempre grazie grazie Don Vincenzo e noi vi aspettiamo venerdì prossimo con una nuova puntata dell'Armonia della vita buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti